Buongiorno e buon lunedì, buon lavoro a tutti, che dire, un Foggia che ci ha meravigliato su questa partita, vincendo 1-0 con Del Vario. Per noi è una grande soddisfazione, in questa settimana è stata molto criticata, sia la società che la squadra, dai tifosi, da noi tifosi, sia nel campo con le scritte, vabbè, via merda, si striscioni fuori allo stadio, contestazione, è giusto che dovevano fare le contestazioni perché avere una squadra così, insomma, è umiliante e questa partita con il Bari era importante. Perdere con il pari era una cosa che, insomma, dava fastidio a noi tifosi del Foggia. Però questi ragazzi, vedendo le contestazioni, vedendo le scritte nel campo, vedendo tutti questi tifosi che si sono ribellati, giustamente, hanno fatto una bella partita. Diciamo che con un primo tempo niente da dire, secondo tempo si sono un po' abbassate di qualità, però alla fine sono riusciti a fare uscire un rigore, a segnare sul dischetto, ma oltre a tutto questo abbiamo giocato all'ottantesimo in dieci e abbiamo anche migliorato su quel punto, giocanti in dieci a non subire gollo, di cui è stata una cosa importante per noi del Foggia. Questi giocatori ce l'hanno messa tutta, hanno dato l'anima, hanno dato il cuore, hanno dato un segnale ai tifosi per dire noi ci siamo. Sì, non siamo dei grandi campioni, però ci siamo. Amiamo il Foggia, amiamo la squadra e ci hanno regalato una bella vittoria contro il Bari. 1-0 che, niente da dire, è stata molto agonistica la per sé. È stata una bella partita. Alla fine diciamo che con questa vittoria un po' di morale ce l'hanno tirato un po' su questi giocatori. Sono giovani, non sono professionisti, però hanno dato l'anima e come come Golia batte Davide. La fine dei conti. Complimenti a questi ragazzi, ce l'hanno messa tutta, hanno dato l'anima. Le contestazioni forse hanno servito a aggassare questi giocatori. Io dico una cosa ai tifosi, sappiamo tutta la storia, società, giocatori, allenatori, tutto. Però questi giocatori hanno bisogno del calore della tifoseria, perché più diamo calore alla tifoseria, più loro sanno che i tifosi sono con loro e loro daranno sempre meglio nel campo. Bisogna solo essere convinti, dobbiamo essere più gasati verso i giocatori, cercare sempre di fare il meglio, di avvicinarci a loro e di non tridicarli, di incitarli, perché i ragazzi ci sono, la voglia ce l'hanno, ce la stanno mettendo tutta. Sono ragazzi, devono migliorare, sì. Non abbiamo questa grande squadra, non abbiamo un grande allenatore, però questa partita con i Bari ci ha dimostrato che il Foggia c'è e questo dobbiamo dire grazie a questi ragazzi qua. complimenti a tutta la squadra, complimenti anche al mister, pure che questa nuova esperienza per lui è un trampolino di lancio. Va bene così. De Zerbi ci ha fatto tanti complimenti, sia alla squadra, all'allenatore, perché anche lui vincendo con il Napoli si è tolto una grande soddisfazione, vincendo anche con Gattuso, per quello che ha combinato con il Pisa, se vi ricordate. Ha fatto i complimenti alla squadra, alla società e ai tifosierie, dobbiamo essere più ottimisti, avere più fiducia e dare più il nostro appoggio a questi giocatori. Buon lunedì a tutti e sempre Forza Foggia, per me fino alla fine, fino alla morte. Buona giornata a tutti e questo lunedì tante novità.